Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo lunedì si prospetta un netto rinforzo dell'anticiclone africano all'interno del Mediterraneo, il quale regalerà tempo stabile praticamente su tutta Italia, quindi splenderà ovunque il sole, eccetto qualche densamento al nord. Ne conseguirà, logicamente, un aumento delle temperature più rilevante, più marcato sul meridione e le aree interne del centro. Per quanto riguarda l'Abruzzo, si prospetta un inizio di settimana stabile, dominato dal sole, avremo anche un lieve aumento delle temperature, massime attorno ai 27-28 gradi, minime tra 14 e 21 gradi. Il caldo diventerà certamente più intenso, più fastidioso nel corso della settimana, soprattutto tra mercoledì e giovedì, quando non escludiamo, qualche picco di 35-36 gradi. Con me questo è tutto, grazie per l'attenzione, a tutti voi l'augurio di una buona settimana. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.